Congelate al momento le sorti del punto nascita dell'ospedale di Sulmona in attesa di una nuova fase programmatoria della rete ospedaliera in cui Sulmona e il territorio potranno inserirsi. Lo stato degli atti e eventuali sviluppi in merito al punto nascita e l'organizzazione della rete ospedaliera sono stati al centro dell'incontro che Sindaco Anna Maria Casini e Consigliere Comunale Elisabetta Bianchi hanno tenuto oggi con il Direttore Regionale Dipartimento Salute e Welfare Angelo Muraglia, come deciso ieri nella Commissione Sanità tenuta insieme i consiglieri comunali e l'assessore comunale Pierino Fasciani. La fase transitoria delle regionali ha tenuto in stallo la situazione del punto nascita rispetto all'ultimo atto riguardante il verbale del documento ministeriale. Prossimo passo, fondamentale nella definizione del futuro della sanità peligna, sarà l'interlocuzione politica con il nuovo governo regionale, in particolare con il presidente Marco Marsiglio e il neoassessore Nicoletta Verì, con i quali discuteremo anche della situazione della clinica San Raffaele, realtà qualificante del territorio, se era a punto di vista occupazionale che dell'offerta di servizi. In relazione all'unità spinale hanno affermato Casini e Bianchi oggi in tour nel capoluogo adriatico per incontrare Muraglia. Incontro tecnico per acquisire tutte le informazioni e ricostruire a livello informativo lo stato dell'arte. A seguire tavolo politico con la regione per condividere una strategia, quindi intanto sapere se la regione ancora è intenzionata a salvaguardare il punto nascita e quindi convergere su una politica di questo genere. Coinvolgere anche il governo, spero anche attraverso i rappresentanti del territorio, per incidere a livello governativo su azioni ministeriali o legislative di rimozione di quegli ostacoli per recuperare definitivamente il nostro punto nascita. Resta alta l'attenzione per la prossima seduta della conferenza Stato-Regioni prevista per il 28 marzo. Sarà quella la sede per riaprire la partita.